Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 19 maggio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Cancro. Tranquilla la mattinata, ma la notte no. Tranquilla la mattinata, con la luna concreta in vergine in se stile e Nettuno fantasioso intrigono, dunque un buon bilanciamento tra senso pratico e creatività, ideale per il bricolage, il giardinaggio o se siete già al mare o al lago per godervi il fascino ipnotico dell'acqua e il rigoglio della natura ormai quasi estiva. Da soli o in compagnia, e Giove abbracciato al sole lascia intendere che sarà piacevole e simpatica, attraversate a passo lento una mattinata piacevolmente impegnata, ma senza sudare. Purtroppo non potete dire altrettanto del pomeriggio, rannuvolato dalla luna bilancina in quadratura, che concentra su di sé e riproietta ricordi malinconici e sospetti indichiarati, soprattutto riguardo a persone care, sulla fedeltà delle quali non avreste motivo di dubitare. Qualcosa di vecchio sta per terminare lasciando il posto a qualcosa di nuovo e di rompente. Donna giovane, chiara di capelli, molto riservate e a tratti timida. C'è un passaggio obbligato da fare che permetterà al nuovo di nascere, compreso un amore da troncare o un rapporto da chiudere. Il nuovo sta per affacciarsi nella vita del consultante single, solo che occorre prendere una serie di decisioni importanti e indispensabili. Oggi sarete a un passo dal sapere una verità che potrebbe anche rivoluzionare, in parte, la vostra vita. Poi vi accorgerete che quello che verrete a sapere in un certo senso lo sapevate già o perlomeno lo sentivate dentro di voi. Oggi vi sentirete particolarmente pigri, fate qualcosa per uscire da questa situazione di stallo. Coltivate un hobby o qualche interesse particolare. Non sottovalutare la possibilità di un viaggio all'estero. Bene l'amore. Originalità. La forma fisica è discretamente buona, tuttavia pensa a una palestra o a uno sport. C'è qualcosa di cui intendete disfarvi e che state pensando di vendere, questo è il momento adatto. Oggi potreste incorrere in degli errori di valutazione, in effetti siete abbastanza nervosi al punto da vedere amplificato tutto e quindi vi sembrerà tutto diverso. Non arretrate di fronte a qualche momentanea difficoltà, fate quello che state pensando di fare e fatelo bene. L'impegno in questa fase è quanto mai importante. Date la giusta importanza alle vostre sensazioni, in giornata potreste sentirvi particolarmente ispirati e prendere decisioni che poi potranno esservi utili e aiutarvi nel risolvere qualche problema. Avete buone opportunità di fare colpo sulle persone, anche di chi vi interessa veramente. È un periodo in cui vi sentite vivi e ben svegli. Anche se gli altri sembrano. Dormire. Eccellenti rapporti con gli amici. Incontri interessanti. Buone notizie. Verwe, prontezza di battuta, capacità di comunicazione vi assistono, consentendovi di brillare tanto in famiglia quanto in svariate situazioni sociali, dove mostrerete, in aggiunta, anche il vostro protagonismo. Firmamento astrale dunque molto incoraggiante. È il gruppo sole, giove, venere, mercurio, urano, in viaggio nel segno amico del toro, a darvi una tabella di marcia molto utile per non riuscire a non dimenticare nemmeno un impegno piacevole che avete in mente per il vostro fine settimana. La forma fisica è piuttosto discreta, specie se siete nati in giugno se invece siete nati in luglio, fate attenzione a non esagerare in questi giorni nei piaceri gastronomici. Dolce la mattinata in bilico tra logica e intuito, vale a dire la luna in vergine razionale in se stile e nettuno immaginifico che le si oppone dal segno dei pesci, acquatico come voi. Ma non finisce qui, a darvi manforte anche venere creativa abbracciata aurano geniale e il sole, anch'esso nel per gli ultimi due giorni, insieme a giove, tutti già con la valigia pronta per traslocare in gemelli. Godeteveli perciò, sono gli ultimi giorni di pieno appoggio, amicizia, complicità, poi le cose cambieranno per loro e di riflesso anche per voi. Per quanto vi riguarda si comincia già nel pomeriggio col trasloco della luna in bilancia, malmostosa inquadratura, per giunta amica di Plutone che a voi ha poco da raccontare se non ricordarvi brutti sogni e fomentare ricordi malinconici e ansiogeni tensioni riguardo al futuro. Amore ed Eros Il romanticismo e la disponibilità del mattino riguardo al partner, ai figli, gli amici, nel pomeriggio si traducono in un'inspiegabile chiusura. L'unica responsabilità che vi si potrebbe addebitare sono le lune cancerine, effetto in terra degli spostamenti della bianca signora nel cielo, dal sorriso si passa alla lacrima facile, dalla disponibilità alla suscettibilità e al mutismo. Peccato per chi dovrà sopportare i vostri musi per tutta la serata. Lavoro e denaro La creatività del mattino che si esprime nel fai-da-te, nel giardinaggio, nella pittura, nella musica vi darà grosse soddisfazioni. Veloci anche nelle faccende in cucina, specie se per cena avete invitati e intendete sfoggiare le vostre migliori ricette. Tempo libero anche per la lettura con un po' di musica, un po' di relax in giardino, una passeggiata nel parco, qualsiasi cosa vi faccia piacere aggiunga qualche nota in più alla vostra cultura e ai vostri rapporti interpersonali. Potreste prendervi il tempo per comunicare con amici lontani, postare i vostri pensieri o qualche foto particolarmente bella che vi va di condividere con altri online, orientati sui vostri stessi principi e interessi. Frenata nel pomeriggio quando la stanchezza vi coglie di colpo insieme a qualche contrattempo. Basta poco a voi suscettibili cancerini per cambiare umore e atteggiamento chiudendovi a riccio senza una ragione che agli occhi esterni possa apparire plausibile. Ma voi la conoscete. E ci rimuginate diventando sempre più neri d'umore. Benessere. Quando si è sereni anche il fisico tiene dietro, stamani vi alzate col piede giusto, efficienti, in ottima forma e bene organizzati. Non si può dire lo stesso del pomeriggio con qualcosa che vi pesa sull'anima e magari anche sullo stomaco, c'è spazio anche per lo svarione ormonale. Quando qualcosa vi contraria il malessere non si limita al pensiero e alla sfera sentimentale interiore, passa impunemente al fisico togliendovi l'appetito. In compenso il sonno abbonda. Per lei, bella passeggiata tra i campi, raccogliendo erbe medicamentose, ora che avete imparato a conoscerle, un pezzo oggi, un pezzo domani, state mettendo in piedi la vostra piccola farmacia familiare. E con successo, le vostre tisane oltre ad essere buone funzionano davvero. Per lui, casa, dolce casa, ma amarognolo il vostro in denaro ed energia, weekend a ripulire, sistemare, aggiustare qualcosa che si rompe e per fortuna avete la mano del bricoleur, altrimenti chissà dove andreste a sbattere la testa. Colore delle emozioni, verde acqua. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 6, finanze, 6, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.